Il Sessione Grasso lì ha fatto impennare la moto davanti. Uno particolarmente rischioso perché stavo andando a finire sotto. Aiutami! E così assieme siamo riusciti a fare questo gradone. E con le macchie inglesi per riuscire a mettere la moto. In modo da rimasta sana e ripartito. E ti guardi il segno. No, hai rifaccio pieno. Arrivo lì, le braccia finite. Dopodiché mi sono alzato, dolorante. Non posso stare in piedi. Non ce l'ho inviato. Non ci siamo alzato. Non ci siamo aiutati. No. Grazie a tutti.